Mi chiamo Antonio e faccio l'idraulico. Vi spiego meglio. I pazienti vanno dall'urologo e spesso l'urologo o i medici in generale usano termini difficili, complessi, parlano in medichese, si fanno capire poco e i pazienti un po' per pudore, un po' per imbarazzo, un po' per riverenza nei confronti del medico non lo interrompono e si accontentano di tornare a casa con un foglietto scritto spesso in maniera illegibile in cui c'è scritto che devono prendere una pastiglia. La prenderanno e non sapranno perché. E in questo noi siamo bravissimi. Noi prendiamo concetti facili e tendiamo a renderli difficili. Abbiamo preso un concetto banale, cioè che negli anni gli uomini urinano peggio di come urinavano prima e lo abbiamo reso complesso. Gli abbiamo dato un nome difficile, ipertrofia prostatica benigna. Anzi, per essere ancora più tecnici abbiamo preso un nome in inglese, in maniera tale che in Italia non ci capisca nessuno. Lower volta a fare la pipì. E il paziente così arriverà in ambulatorio, si siederà davanti a me e io gli dirò mi dica tutto, che ci fa dall'idraulico? E lui mi risponderà, sicuramente non mi dirà faccio fatica a fare la pipì, mi dirà dottore ho la prostata e magari non sa neanche cos'è. Allora capisco che urgono chiarimenti. Cos'è la prostata? La prostata è questa robina verde qua. Nei ragazzi pesa 20 grammi, è una robina piccola piccola, messa in una posizione veramente difficile da raggiungere e l'urologo per raggiungerla molto spesso usa il suo dito. E un dito nel sedere non è sempre necessario, non abbiate paura, ma non è neanche una tragedia. La prostata di mestiere produce il liquido seminale. E voi direte, è come i testicoli che fanno? I testicoli producono la parte nobile dello sperma, producono gli spermatozoi che attraverso una via complessa raggiungono la prostata, la nostra amica qui, che produce la parte liquida dove nuotano gli spermatozoi. E voi direte, è tutto questo che c'entra con la pipì? Perché se produce lo sperma deve avere a che fare con la pipì? E questo riguarda il fatto che la natura con le donne è stata generosa, le ha dotate di un apparato urinario fatto da vescica e uretra, che è il canale che porta la pipì all'esterno, di cui si occupa l'urologo, separata da un apparato genitale, quello destinato alla riproduzione, che è costituito da vagina, utero e ovaie, in cui entrano spermatozoi ed escono bambini. Ok? E di questo se ne occupa il ginecologo, non se ne occupa l'urologo. Nel maschio è stata un po' più abbottonata la natura, ha fatto un po' il braccino corto, per cui ha iniziato bene, ha dato apparato urinario separato da apparato genitale, per cui la vescica ce l'abbiamo anche noi, continua con l'uretra, è un tubo che noi maschi crediamo che sia lunghissimo, però poi ha preso l'apparato genitale, in cui testicoli producono spermatozoi che arrivano nella prostata, però la prostata ha la stessa via d'uscita della via urinaria. La prostata è attraversata dall'uretra esattamente al centro e quindi il buchino sul pene da cui escono gli spermatozoi è lo stesso buchino da cui esce la pipì. E questo ha incasinato un po' tutto, ha reso tutto più difficile. Per cui quello che succede è che se la prostata non si ammalasse, effettivamente noi continueremmo a usarla gioiosamente senza neanche sapere che esiste. In realtà però quello che succede è che cresce di volume negli anni e a partire dai 50 anni in poi questo volume aumenta per una serie di squilibri ormonali formando una parte centrale della prostata che si chiama adenoma e adenoma non è un tumore, è semplicemente l'ingrandimento benigno della prostata, l'ipertrofia prostatica benigna che se cresce verso il centro della prostata, dell'uretra, va a schiacciare l'uretra rendendo difficile lo svuotamento della vescica. E questo è il motivo per cui io dico che faccio l'idraulico. Dico che faccio l'idraulico perché mi piace parlare potabile, mi piace farmi capire. Penso che nel rapporto tra medico e paziente, in particolare in una situazione di un problema funzionale, di come funziona la vescica, la prostata, lo svuotamento, sia importante capire quali siano i disturbi del paziente e far capire al paziente quali sono le possibili soluzioni. E ritornando all'ipertrofia prostatica, non è questione di volume. La prostata cresce di volume ma ci sono prostate enormi, anche di 300 o 400 grammi, che effettivamente se l'adenoma è cresciuta in maniera tale da spingere verso l'esterno e non verso l'interno, succederà che il paziente non avrà disturbi ad urinare. Ci sono invece adenomi piccoli, cresciuti però nella zona sbagliata, che effettivamente renderanno difficile la vita del proprietario della prostata. E allora cosa si fa? E allora si va dall'urologo e bisogna iniziare a districarsi tra una serie di possibili pastiglie o integratori, abbiamo le pubblicità alla televisione, abbiamo una serie di trattamenti innovativi. L'urologo cosa farà? Inizierà a chiedere degli esami, vi dirà di fare a volte delle ecografie, degli esami del sangue, delle urine, degli esami un po' particolari, fidatevi di lui. Se avete disturbi andate a trovarlo. Lui chiederà degli esami e secondo me ci sono due esami su cui vale la pena di soffermarsi un attimino che sono un po' particolari. Uno è un esame molto chiacchierato, il PSA. PSA è l'antigene prostatico specifico ed è un esame del sangue che va a cercare una proteina che viene prodotta dalla prostata anche in situazioni di normalità. Noi lo usiamo come campanello d'allarme per i tumori della prostata, però come tutti i campanelli d'allarme quello che succede è che non suona solo quando ci sono i ladri in casa, a volte suona semplicemente perché è passato un uccellino davanti alla fotocellula. Allo stesso modo il PSA può salire per il tumore della prostata e sale per il tumore della prostata, ma quando è alto magari è alto semplicemente perché la prostata è ingrandita o è infiammata o ha delle infezioni o magari perché abbiamo fatto una notte di sesso sfrenato e la mattina dopo abbiamo voluto controllare gli esami del sangue. Motivo per cui è un esame che crea allarme, a volte ingiustificato, e PSA per me vuol dire proprio questo, vuol dire portatore di stress e ansia, però è importante saperlo utilizzare, quindi fatelo se l'urologo ve lo chiede. Il secondo esame è un esame molto particolare che si chiama uroflussometria. L'urologo in questa situazione cerca di chiedervi e di capire come va a fare la pipì, ma cerca un dato oggettivo. Allora vi chiederà di fare la pipì in un recipiente che misura la velocità con cui si svuota la vostra vescica, vi fa una uroflussometria. È un esame teoricamente molto utile, però quello che succede è che molto spesso voi arriverete a fare questo esame e vi troverete, se va bene, un infermiere che è da dietro una tenda vi dirà urina ora! E voi magari eravate lì dietro la porta da mezz'ora che vi tenevate la vescica perché avevate lo stimolo e c'era l'infermiere in ritardo, e non c'era il punto giusto, arrivate lì davanti col vostro pipino in mano per fare la pipì, passate lo stimolo, fate un esame che verrà fuori una schifezza, andate dall'urologo che vi guarderà e dirà beh, voi urinate malissimo, questa prostata è da togliere, bisogna fare qualcosa. Ecco, non è così, l'urologo parla, l'urologo prima di agire vi farà delle domande, vi chiederà una serie di informazioni. E questa è la situazione in cui spesso i maschi dimostrano di essere un passo indietro rispetto alle loro partner, perché la classica situazione del paziente in ambulatorio a cui io chiedo, ma allora, ma di notte si sveglia per far pipì? E lui mi guarda e dice, ma no, raramente, una volta ogni tanto. E la moglie è dietro di gomito, ma stanotte ti sei alzato due o tre volte, ma cosa dici? E io approfondisco e dico, ma faccia capire, ma fa fatica a fare la pipì, il getto è un getto normale, si interrompe e ripetere. Ma no, va tutto benissimo, urino bene. E la moglie è dietro, ma come? Se sembri un cagnolino, ma se vai avanti e indietro dal bagno tutte le volte. Alla terza domanda che mi faccia vedere gli esami, finalmente il maschio riconosce i suoi limiti, si tira indietro e dice, no, chieda a mia moglie che ha messo tutto a posto lei. Ok. Arrivati a questo punto, l'urologo si fa la sua idea e cosa vi può proporre? Vi proporrà delle soluzioni, cercherà delle cose da farvi fare. Ci sono tre situazioni diverse. La prima è che la prostata è ingrandita e questo ingrandimento non sta dando disturbi ad urinare. Quella è una situazione in cui non dovete far niente. Semplicemente l'urologo probabilmente vi proporrà di controllarla nel tempo e allora vale la pena di controllarla. La seconda situazione, che è la più frequente, è quella in cui la prostata è ingrandita, dà dei disturbi ad urinare e voi siete lì per questo. In questa situazione, e questa è la cosa rivoluzionaria, l'urologo non vi obbliga a fare niente. Bisogna scegliere insieme che cosa fare? Bisogna capire quali sono gli effetti collaterali o i rischi di un determinato trattamento, metterli sul piatto della bilancia con quelli che sono i suoi benefici. E i piatti della bilancia ce li avete in mano voi? Lo scettro della decisione in questa situazione ce l'avete voi. Quindi è una situazione in cui il fatto che voi vi alzate una, due o tre volte all'urologo di per sé non interessa se a voi non dà fastidio. Chiaro che se voi chiedete una soluzione a questa situazione, allora ci saranno delle cose che potrete fare. La terza situazione è quella in cui invece la prostata è ingrandita. Questo ingrandimento crea dei disturbi ad urinare e questa condizione ha dei risvolti medici. Cosa intendo? Vi siete bloccati, non potete fare la pipì, avete dovuto mettere un catetere. Il catetere è un tubicino che viene inserito attraverso l'uretra e attraverso il pene e che permette di svuotare meccanicamente la vescica. Oppure avete dei calcoli dentro la vescica perché la vescica cronicamente non si svuota bene, c'è un ristagno di pipì che crea un sedimento che poi diventano calcoli. Oppure avete delle infezioni o la vescica è sfiancata, ha ceduto e si sono formati dei diverticoli. Se c'è una condizione medica da risolvere non siete voi a decidere ma è l'idraulico, è l'urologo, che vi dirà signore caro lei deve fare questo, questo e questo perché se no ci rimette la vescica, va in dialisi, avrà dei problemi, eccetera eccetera. In questa situazione è l'urologo che decide. Il paziente, chiaro che alla fine può accettare o meno un trattamento, però è raccomandato seguire le indicazioni dell'urologo. Ma quali sono questi trattamenti? Diciamo che partiamo sempre da situazioni molto variabili e allora partiamo sempre con la mano leggera e la prima cosa che possiamo proporre ad un paziente è quella di adattare il suo stile di vita ai suoi problemi. Se il paziente è abituato a mangiare la minestra tutte le sere, a bere un litro d'acqua prima di andare a letto e si alza 5 volte di notte, la prima cosa da fare è dirgli signore caro la minestra la mangia a pranzo, eviti di bere la sera e che è una cosa banale. Se non è questa la vostra situazione o se non è sufficiente, ci sono dei farmaci, ci sono delle pastiglie che si possono prendere e anche qui abbiamo diverse categorie di farmaci. È chiaro che ogni medaglia ha il suo rovescio. Esistono farmaci che servono proprio a ridurre il volume della prostata in maniera tale da facilitare il passaggio della pipì e questi farmaci però per contro possono, che dico possono, avere effetti sulla sfera sessuale riducendo il desiderio o riducendo le erezioni. Ci sono farmaci che invece possono non agire sul volume della prostata ma agire sul tono muscolare della vescica per cui allargando il passaggio della pipì a questo livello sul collo della vescica all'imbocco laddove l'uretra attraversa la prostata e questa è un'azione meccanica che funziona molto bene, che dà un sollievo abbastanza rapido dai disturbi ma che ha come effetto collaterale la possibilità, non la certezza, che si riduca l'eiaculazione, cioè l'uscita del liquido seminale. Il liquido seminale, trovando una strada facile di ritorno e non di uscita, non uscirà verso l'esterno ma tornerà all'indietro verso la vescica. Per cui durante i vostri rapporti, prendendo questo tipo di farmaci che si chiamano alfalitici, potrebbe avere erezioni normali, quindi un rapporto sessuale normale che culmina in un orgasmo per cui prova il piacere, il momento del piacere, ma di non esce niente, è un orgasmo asciutto oppure esce una quantità ridotta di liquido seminale. Esiste una terza categoria di sostanze che si possono utilizzare che sono fitoterapici, estratti vegetali, che non sono il cuore della terapia. Vengono dati a volte come integratori, ne esistono più di 300 marche diverse, a volte in maniera più corposa come farmaci e non sono il cuore della terapia, dicevo, ma sicuramente possono essere un buon supporto a tutto quello che viene dato oltre agli integratori. E se i farmaci non bastano, e se le pastiglie non vi soddisfano, allora passiamo alle maniere forti. Per maniere forti intendiamo l'intervento chirurgico e chirurgico non vuol dire un taglio sulla pancia, o meglio, vuol dire molto raramente un taglio sulla pancia. L'intervento chirurgico standard per l'ipertrofia prostatica benigna si chiama, con una sigla inglese ovviamente perché così siamo sicuri che la comprensione resterà limitata, si chiama TURP ed è l'intervento in cui in anestesia spinale, per cui addormentati dall'ombelico in giù, o in anestesia generale, con l'anestesista che vi tira una mazzata sulla testa e non ricordate più niente, e si entra attraverso il pene con uno strumento rigido che serve a rimuovere meccanicamente la parte di prostata che ostruisce il passaggio della pipì. Questa cosa viene fatta da più di 40 anni e viene fatta con l'energia elettrica monopolare, quella delle lampadine per capirci, ed è un trattamento standard che non dà problemi di incontinenza, quindi non si perde la pipì dopo l'intervento, non dà problemi di impotenza, per cui le erezioni restano né meglio né peggio di quelle di prima, ma come conseguenza anche questa, togliendo la parte di prostata che crea l'ostacolo, crea una facilità maggiore nella risalita del liquido seminale e toglie l'eiaculazione. Questo in maniera permanente e definitiva ed è una regola pressoché matematica. Quindi anche questo dà problemi di eiaculazione. Laddove ci sono prostate molto voluminose, negli anni sono arrivate tecnologie in grado di poter fare questa cosa meccanicamente senza un taglio sulla pancia per via endoscopica, quindi anche per prostate molto grandi. Sono arrivate energie diverse, l'energia elettrica bipolare, il laser verde, al dolmio, al tullio, è arrivata anche una tecnologia ad acqua, esistono una serie di tecnologie che come obiettivo hanno esattamente la stessa cosa, quella di rimuovere meccanicamente la parte centrale della prostata e funzionano molto bene e ci hanno permesso di evitare ormai praticamente sempre il taglio sulla pancia. Però quello che succede è che l'uomo, il maschio italiano in particolare, che vuole vivere fino a 200 anni, parliamo di persone tendenzialmente al di sopra dei 50 anni a cui l'eiaculazione non dovrebbe interessare più di tanto, ma l'uomo vuole vivere fino a 200 anni e fino al duecentesimo anno vuole eiaculare. Questa è una cosa che ancora non mi spiego, mia figlia che ha 7 anni direbbe che dopo i 30 anni sono tutti vecchi, io ne ho 43 e penso che alla fine vorrei eiaculare a lungo, però l'uomo vuole eiaculare sempre. E allora sono state sviluppate anche delle tecniche in grado di gestire questa situazione cercando di preservare l'eiaculazione. Sono tecniche che io definisco ponte tra i farmaci e l'intervento perché non sono efficaci come l'intervento, probabilmente permettono di sospendere i farmaci. Quindi si possono utilizzare, funzionano abbastanza bene con patti chiari e amicizia lunga, stiamo rimandando un problema probabilmente non lo stiamo risolvendo definitivamente e sono o l'embolizzazione delle arterie prostatiche, cioè un radiologo interventista naviga nelle arterie del vostro corpo cercando le arterie che portano il sangue alla prostata, ci mette un tappo in maniera tale che la prostata non riceva più nutrimento e si riduca di volume. Non è come togliere la denoma, però ha una sua nicchia in cui può essere efficace, oppure ci sono delle tecniche alternative in cui mettiamo delle mollettine all'interno della prostata, alcune sembrano la plastica che serve a tenere l'etichetta dei vestiti, altre sembrano una gabbietta del tappo di champagne che servono ad allargare il passaggio della pipì facendo una specie di lifting alla prostata, dandole una tiratina. E in questo modo possiamo gestire anche situazioni in cui l'intervento sarebbe troppo e le pastiglie troppo poco. Chiudendo la chiacchierata, cosa ci dobbiamo aspettare dall'idraulico o dal dottore idraulico, ha studiato, è un idraulico che ci ha messo del tempo e della fatica per arrivare dov'è? Ci dobbiamo aspettare un consiglio, dobbiamo cercare aiuto quando abbiamo un disturbo perché quasi sempre esiste una soluzione ai nostri fastidi ritagliata per quelle che sono le nostre esigenze. E ricordatevi che gli uomini si dividono in due categorie, quelli che sono stati dall'urologo e quelli che ci devono andare. Grazie.